nel 1989 una mia amica si innamorò perdutamente di un musicista noi facevamo l'università insieme io e lei frequentavamo le stesse lezioni davamo spesso anche gli stessi esami ma in quel periodo lei era distratta arrivava in ritardo non si presentava agli esami l'unica volta che si presentò fu bocciata alla fine mi confessò che era presa completamente da quest'uomo questo artista che un po la trascurava un po la tradiva e soprattutto era sempre in giro per l'italia anche se non era molto famoso aveva queste turne da fare e quindi lei rimaneva a casa a pensare cosa lui stesse combinando in giro per il mondo quantomeno in giro per l'italia alla fine di quell'anno cioè alla fine dell'89 penso fosse natale l'occasione doveva essere quella allora le regalai per fare un po capire come sono i musicisti e gli artisti un disco di mimolo casciulli di cui oggi poi vorrei parlarvi perché mi è tornata in mente questa storia riascoltandolo in radio casualmente riascoltando un pezzo in radio di questo disco e quindi andandolo a recuperare nel mio archivio io a lei regalai il vinile io oggi ho la musica setta che vi mostro ne parlo in questo spazio del mio canale youtube che si intitola dischi gira dischi e mangia dischi e vi invito a iscrivervi al mio canale dove potete trovare racconti di album importanti della musica italiana ma anche racconti di libri che vanno letti almeno una volta nella vita e poi una terza playlist dedicata alle interviste che alcuni artisti mi hanno rilasciato nel corso degli ultimi anni vi mostro la musica setta di questo disco dell 89 del dottor mimolo casciulli che si intitola ve la faccio vedere da vicino perché non so quanto si possa vedere adesso glielo dico titolo scritto fra parentesi e la foto in copertina in questa foto sfocata di lui che si alza da un tavolo e va verso qualcosa probabilmente va verso una donna per invitarla a ballare disco di 12 canzoni che a me ricorda quella mia amica che oggi ho un po perso di vista so che lei fa l'insegnante e non è più presa da quel musicista da un sacco di tempo per contrapasso quel musicista non è mai diventato troppo famoso anche se so che ancora fa dei live in giro per i club e i locali un po più raffinati e jazz della nostra penisola ma insomma mimolo casciulli perché questo disco bene parlo non solo perché lavorerai a quella mia amica e alla quale questo disco piacque molto peraltro ma ne parlo perché è un gran bel disco con grandi collaborazioni i testi e le musiche sono quasi tutte di lo casciulli ma ci sono comunque interventi per esempio di francesco de gregori in un pezzo che si chiama ballando il testo è di de gregori e anche di enrico ruggeri in una canzone che invece si intitola una vita che scappa qual è la poetica di questo disco di cui vi mostro ancora la musica setta anzi vi mostro anche l'interno molto vintage come ovvio che sia per le musica sette interno con questo colore rosso rosso passione perché in effetti la passione l'amore è uno dei leitmotiv di questo album che è una passione però cantata da cantautore e cioè con un linguaggio ricercato molto raffinato ma nello stesso tempo popolare ecco la bravura di lo casciulli è quella di riuscire a raccontare le storie d'amore trovando anche delle particolarità che le rendono memorabili un dettaglio un colore il gusto per un certo modo di bere il caffè ad esempio oppure la cortesia con cui lui in un nightclub come si chiamavano una volta si alza dal tavolo e va ad invitare una donna che gli ha sorriso e che potrebbe anche svoltargli la serata vi mostro anche l'interno di questa musica setta ormai sono oggetti da museo anche se stanno tornando di moda perché all'interno ci sono tutti i testi ve li faccio vedere trasversali con qualche foto alcuni dei quali sono scritti in maniera abbastanza diversa dagli altri scritti in corsivo scritti in obliquo scritti con caratteri cubitali testimoniando secondo me anche la diversa natura di queste canzoni si va dal jazz melodico alla più pura canzone d'autore fino anche alla ballata folk io vi segnalo tre pezzi in particolare che mi sembrano meritevoli il primo è una canzone che in realtà è una specie di omaggio alla musica degli anni 50 si intitola arte moderna e lo casciulli la canta insieme al quartetto cetra quindi è molto raffinata un pasto di voci che forse oggi non si sente più da nessuna parte e il testo racconta la mania di tutti quelli che si credono o sono convinti del fatto che la moda la moda dei vestiti e la moda del dell'atteggiarsi o il look come lo chiamava lucio dalla in una canzone sia arte ecco qui c'è una buona aria ma anche abbastanza sarcastica prese in giro di questo tipo di mentalità c'è una splendida canzone e qui mi rifaccio al motivo per cui regalai questo disco alla mia amica dedicata ai musicisti i musicisti sono così gente che prende quel che c'è dice lo casciulli ecco io le consigliai di ascoltare con attenzione questo testo perché diceva la verità non si doveva fare la mia amica troppo illusioni sulla sincerità dei musicisti degli artisti in generale perché i musicisti per dirla con fabio concato sono gente che vivrebbe bene in un hotel e quindi senza riferimenti fissi senza legami e senza storie che durano e questo è quanto e questo è quello che successe ma è il bello degli artisti in questo modo raccontano in maniera forse più oggettiva la loro e anche la nostra vita e poi il terzo pezzo che vi segnalo si intitola blu ed è un pezzo molto folk appunto la musica è piuttosto popolare sembra quasi una tarantella e richiama alla memoria un film scandaloso che è un film di fassbinder che si chiama crel de brest che uscì nell'ottantadue e era ambientato in una sordida taverna di un porto credo fosse il porto di marsiglia ma vado a memoria dove appunto c'erano delle storie omosessuali fra uomini fassbinder grande regista tedesco che non fece in tempo a vedere il suo film proiettato perché morì poco dopo la fine del montaggio di questo film e questo film andò a venezia nell'ottantadue e non vinse il leone d'oro perché fu superato da un altro film tedesco un film che è bello ma non quanto quello e che vi lascio in descrizione perché vi lascio il piacere di scoprirlo qui sotto di quale film si trattasse vi lascio il trailer di quel film che superò appunto crel de brest nella corsa al leone d'oro quindi è un disco questo che va ascoltato va secondo me anche ascoltato più volte e possibilmente in cuffia l'ultima citazione che faccio è che è un disco che si chiude con due pezzi il silenzio del mare e prima di chiudere che sono dei pezzi che starebbero benissimo alla fine di un concerto alla fine del concerto lo casciulli immagina di prendere la macchina saltar su e guidare verso il mare finché sulla sponda del mare sulla riva del mare si ferma spegne il motore e si gode il silenzio che c'è silenzio come antidoto anche a rumore di oggi che è piuttosto frastornante soprattutto quello dell'immondizia musicale per citare un altro grande cantautore e cioè franco battiato mimmo lo casciulli adesso glielo dico adesso ascoltatelo e poi ne parliamo vi lascio in descrizione anche il mio blog nel quale oltre che guardarmi in faccia e ascoltarmi se vi va potete leggermi del tutto gratuitamente grazie e iscrivetevi a questo canale